La Toscana rilancia la campagna contro la violenza sulle donne e per la promozione del numero gratuito di pubblica utilità 1522 attivo dal 2006 e collegato alla rete dei centri antiviolenza sul territorio. Dopo la grande distribuzione quest'anno la campagna coinvolge il mondo dello sport e quello dei mercati ambulanti per ampliare la platea di donne a fronte di un aumento di casi di violenza, soprattutto domestica, in particolare tra le giovani tra i 18 e i 29 anni. La prevenzione si fa anche attraverso la comunicazione e l'informazione. Lavoriamo tanto sulle scuole, qui invece vogliamo rivolgerci ad un pubblico ancora più vasto. I materiali informativi della campagna della regione contro la violenza sulle donne saranno distribuiti in due mercati per ogni provincia entro fine anno, grazie alla collaborazione con Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio. Grazie all'accordo con CONI Toscana, CIP e ANCI saranno poi distribuiti in alcuni eventi sportivi i materiali e le borracce di alluminio con le immagini della campagna, che si collega così all'altra campagna, Toscana Plastic Free, promossa dalla regione. Io credo che quest'accordo che noi stringiamo con il CONI, con il Comitato Paralimpico, possa essere utile per diffondere fin dai giovani un messaggio importante, che è quello del rispetto dell'altro, del rispetto delle donne, ma anche la diffusione della conoscenza di una rete che c'è a protezione delle donne, a protezione dei soggetti con fragilità. Tra 2009 e 2018 22.437 donne si sono rivolte ai 24 centri antiviolenza della regione, mentre le vittime di femminicidio sono state 108 dal 2006, 7 solo nell'ultimo anno.